Mariano Di Dia di Strasatti, 22esimo turno del massimo campionato regionale siciliano, la Nissa di Mr. Bognanni, reduce dal pari, beffa nell'ultimo turno, Alfonso Virciglio di Campofranco per 2-2 contro il Marineo, ospita una dolce onore, Marsala, reduce invece dalla sconfitta sul campo dell'Unitas, Sciacca dirige l'incontro il signor Rosario Zangara della sezione di Palermo, quadruato da Fardella e Cucci di Trapani, 4-3-3, questo l'assetto scelto da Mr. Bognanni per vestire la propria Nissa con Kebba 3-4, pari di fronte a lui, Garofalo, Conti, Dioppe, Santa Maria in mediana, Caronia, Bisogno e Ilario, tridente con Retucci assistito da Rizzi e Camara, passiamo alle immagini di questa sfida, grazie alle immagini che ci giungono da Mario Carpinteri che si apre al giro di boa della prima frazione di gioco con Ilario che si libera bene sulla tre quarti, allarga la sfera lì dove Camara rientra sul destro, Cicca e strozza il suo tentativo al 27esimo, arriva il vantaggio biancoscutato, corner di Ilario, imperfetta la parata di Furnali, ne approfitta allora Bisogno che mette lo zampone per il vantaggio dei uomini del presidente Gianmusso che possono festeggiare al Mariano Di Dio, non esente da colpe nell'occasione Furnali che si farà anche male nell'occasione, al suo posto allora dentro Figlioli non farà. Una gran figura il portiere della Dolce Onorio Marsala sul tentativo successivo al 40esimo, palla riscodellata dentro da Caronia, si avventa Camara sul pallone, colpo di testa che va a beffare il nuovo entrato Figlioli. Anche in questa occasione qualche responsabilità per l'estremo difensore marsalese, termina così la prima frazione di gioco sul parziale di due reti a zero in favore della Nissa che ha potuto sfruttare anche gli infortuni. Da parte la Dolce Onorio Marsala cinica la formazione di Mister Bognanni, in vantaggio grazie alle marcature, il bisogno e Camara passiamo al fin della ripresa che si apre con la Dolce Onorio Marsala che accorcia le distanze. E Mugliala che riapre la partita, filtrante di foglia splendido, un cioccolatino solo da scartare per Mugliala, azione tutta in verticale da parte dei padroni di casa che così si portano sul parziale di uno a due al Mariano di Dia di Strasatti. Inizia invece la girandola di gambi per Mister Bognanni che getta nella mischia pardo il luogo di Rizzi al 72esimo, resterà però in dieci uomini la Dolce Onorio Marsala, l'assistente del direttore di gara. Richiama a sé il signor Zangara, è un giallo, si trasforma in rosso, costretta allora in dieci uomini a Dolce Onorio Marsala ma ancora una volta si farà del male da solo, retropassaggio errato sul quale si avventa Mattia Reducci che timbra il cartellino anche questa domenica. E porta la Nissa sul doppio vantaggio, freddo e glaciale il numero 9 di Mister Bognanni all'ottantacinquesimo ci darà spazio anche per il numero 19 pardo che si libera bene col mancino, fermato solo dal legno alla destra di Figlioli all'ottantottesimo. Con la gloria per pardo arriva, filtrante di bisogno impassibile alle due guardie della Dolce Onorio Marsala, ne approfitta pardo che per la seconda domenica consecutiva va in rete e fissa il risultato sull'1 a 4. Ci sarà nel finale però un sussulto d'orgoglio della Dolce Onorio Marsala con il filtrante di Gennaro per Genna. Sinsino in mezzo a due, sterza sul destro, salta Conti in fila Chebba, azione magistrale a parte del numero 7 Marsalese che prima riesce a passare tra bisogno ed il compagno in squadra, poi lascia di Sasso Conti e con un destro preciso fissa il risultato sullo definitivo 2 a 4 al Mariano di Dia di Strasatti. Infatti la Nissa si impone sulla Dolce Onorio Marsala, ritrova la vittoria con pagina di Mister Bognanni, un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima!